Ciao ragazzi, questo è il mio blog, c'è una parte personale che guarda il diario, in cui vi racconterò quello che mi succede, la mia vita, le mie emozioni, i miei desideri, ma anche le mie difficoltà. Poi c'è un'area riguardante il calcio, è l'area fantasy, perché secondo me il calcio deve essere fantasia. Poi c'è un'area energy, insomma in questo blog sono tantissime cose, sono sicuro che vi piacerà moltissimo, il mio cammino è molto lungo e difficoltoso, vorrei condividerlo con voi, commentate, condividete, scrivetemi, io cercherò di rispondere a tutti quanti, un abbraccio.